E' un Dio che va al ripasso, non come la mentalità di oggi. I napoletali sono tutti affranti perché ci siamo venduti qua in la Juve se lo è preso, ma io sfiderei chiunque di voi per quei soldi a non andarsi in un'altra squadra. Sentite, fatemi il piacere che è l'interesse a muovere le redini del mondo, ma chi volete prendere in giro? Il cuore non il cuore. Quel poveraccio ha avuto una grande proposta e è la presa, è la mentalità umana questa. Dio invece non ragiona così.